Ciao a tutti, come reagiscono le persone intelligenti ai manipolatori e ai narcisisti? Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Allora i manipolatori, i narcisisti, i bugiardi o semplicemente le persone che fanno perdere tempo sono delle categorie di persone che emanano negatività. Come dire, proprio come le tossine, diciamo così, vanno a inquinare l'ambiente le tossine emotive vanno a inquinare il tuo corpo, la tua mente soprattutto e la avvelenano. Queste persone, diciamo, possono entrare nei tuoi pensieri, nella tua mente e lasciarti emotivamente prosciugato. Inoltre se ti coinvolgi con una persona narcisista, questo diventerà il tuo peggior incubo, il peggior incubo della tua vita perché ti genererà forti strati di sofferenza. Allora, quindi devi essere sicuro che se hai già incontrato qualcuno in passato, diciamo, che ha avuto queste caratteristiche, avrai capito di cosa sto parlando, no? Quindi bisogna imparare a diventare intelligente. Che cos'è l'intelligenza? L'intelligenza è il modo di affrontare l'ambiente che ci circonda e quindi è anche il modo di affrontare le persone narcisiste, le persone manipolative. Se tu sei una persona intelligente, comunque l'intelligenza si può sviluppare, devi essere, il primo punto è la consapevolezza. Essere consapevole, cosa vuol dire? Consapevole del fatto che c'è qualcuno, che c'è qualcuno che sta cercando di manipolarti, che c'è qualcuno che sta cercando in qualche modo di rovinarti la vita. E quindi questa è la prima, diciamo, consapevolezza. Una volta che hai questa consapevolezza devi mettere delle barriere. Delle barriere, come si fa a mettere queste barriere? Beh, la cosa principale è l'indifferenza e l'abbandono. Cioè, chiudi i rapporti. E non importa che sia una persona vicina, che sia un parente, che sia un amico, un fidanzato, un marito, una moglie, insomma. Alla fine bisogna abbandonare, perché se una persona ti inculca solo negatività, questa è la prima cosa che devi fare. Se proprio non puoi farne a meno, perché è un tuo datore di lavoro, se è una persona che ti sta vicino, diciamo così, ed è un tuo datore di lavoro, allora, o un collega di lavoro, allora devi proprio mettere delle barriere mentali, diciamo così. Creare un, diciamo, creare una barriera ed evitare che questa persona possa entrare all'interno di questa barriera. Possa entrare all'interno di questa barriera, cosa vuol dire che non puoi entrare all'interno di quella barriera? Vuol dire che devi mettere dei paletti, vuol dire che devi mettere dei blocchi, dei riflettori, insomma. A livello mentale immagina che l'energia che ti manda li rimbalza e li torni indietro. Questa è l'unica cosa che puoi fare se vuoi ottenere, diciamo, il fatto di evitare di coinvolgerti. Cioè, tu non devi coinvolgerti, devi essere indifferente, cioè devi avere lo stesso coinvolgimento che hai con un elettrodomestico, niente di più. Perché se ti coinvolgi con persone narcisiste, se ti coinvolgi con persone che sono persone manipolative, bugiarde, andrei in stato di sofferenza. Quindi noi dobbiamo evitare assolutamente di soffrire. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al canale e iscriviti al mio nuovo canale Felicità e Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!